Lascio il passo per i vostri amici. Avanti. Miau, 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 miau. Ok, fuori. Tre altri. Ok, sì. Ok, fuori. Non dimentico qui. Billettino. Un po' qui. Qui. Non dimenticare così. Chi disponibili per questo? Così? Disponibili. Ok. Disponibili per questo. Sempre qui. Ok. Tre altre. Tre. Ok. Tutti insieme. E subito. Vostri posti. Perfetto. Ok. Iniziamo. Secondo. Ravolo con aggetti. Ancora lo stesso. Metodo. Nomi. Presente. Aggetto. Ok. Una cosa, una cosa. Va bene. Ora, il primo oggetto mi sembra che ne sono io. Sì. 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 Io che sono qua, ho fatto il ventino. Torno. Sì. Sì. Mi sono. E mi sono. E mi sono. Va bene. Cambia lui. Tu sei secondo. Ah ok. Perfetto. Perfetto. Non è importante. Vieni. Vieni. Vieni qui. Prendi aggetto. Vieni qui. Sì. Aspetto per la musica. Sì. Tranquillo. Non è importante. Ok. In maniera libera. Prendi aggetto. Vieni qui. Questo non tanto è importante. Ciao, signor Renato. Qua non movimento. Sì. Non movimento perché a dire tu si. Ma in caso questo attasca, possibile fare movimento. Sì, non posso mettere le tasche. Perché no? Ok. Ciao, signor Renato. Ecco. Ok. E musica? Sì. Ok. Prima guarda l'aggetto. Noi devono capire che cosa è. Sì. E dopo così. Solo su. Ok. Basta. Secondo. Ciao. Il mio nome è Gino. Sì. Gino. Gino. Carissimo. Ok. Facciamo così. Facciamo così. Gino. Un piccolo. 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 Cosa. Un piccolo. Non il vostro movimento. Ma. Manco qualcosa qui. Solo. Ciao. Il mio nome è Gino. Ok. Come vuoi. Un po'. Un po'. Corpo. Ok. Gino. Facciamo così. Qui. 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 Lungo. Un po'. Così. Uno. Dopo altro. Ok. Fuori. Un altro. Ciao. Io sono. Blu. È piccolo. Blu. Guarda. Blu. Io sono. Io sono. Blu. Oh. Ciao. Io sono. Blu. Sì. Un piccolo movimento. Come vuoi. Ok. Ok. È buono. Buon aggetto. Sì. Ciao. Io sono. Stacco. Ok. Grazie. Guarda. Ciao. Io sono. Stacco. Oh. Io sono così. Non. Io sono. Stacco. Separatamente. Ok. Sì. Aspetto per la musica. Sì. Aspetto per la musica. Sì. Inizio finale. Sì. Finale. Sì. Finale. Perfetto. Ok. Simone. Aspetto per la musica. Ciao. Ciao. Io sono. Dado. Oggi. Vi mostrerò. Qualcosa di straordinario. Oggi. vi mostrerò. Qualcosa di straordinario. Oggi. 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 incominci Stia. Oggi. Questa di straordinario. Da. Inoltre. respects. Oggi. I cammini. Unelle, sepporte chioporte. Quindi il giudice nei calcini. Il giudice diMr on Reed. Sì. Prima, prima, e così, più, sì, e così, fa così, e dopo così, in profilo, e, lento, e più, e più, e più, sì, più, più. Non lo so, non c'è pancia, fortunato, fortunato, che cosa posso fare? Va bene, proviamo così. Ah, ma che tu non lo faccio irritare? Ma, no, 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 ma... Brutto. Brutto. Che cosa posso fare? Che cosa posso fare? Ah, non è un po' legge di sannuta. Questo, una piccola differenza. Si, fa così, guarda, ah, che cosa... Come? Ok, devo trovare sostituzione, ok? Perché, per il suo tempo, dopo masturare, perché in caso no, tagliamo questa cosa, perché no pancia e no buffo, quando pancia, e sì, ma quando quasi non ho visto, no gag, solo così. Ok, tre punti, aspetto la musica, la musica così, mmm, tre punti... Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Salve a tutti, io sono Dio, e oggi sono qui per farvi vedere qualcosa di straordinario. Aspetta, per un minuto. Aspetta, per un minuto. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il mio nome è Otto. Grazie a tutti. 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 Lento, 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 processo, processo, processo e carne, e carne, e carne, ok, Anna Rita, ciao, io sono Anna Rita, e la musica. Chiara? Va bene. Bene, io voglio dire questo, non è necessario presentare per pianti, non è necessario presentare con uomini o movimenti, no, anche Treponti no, anche Demiano no presentazione, anche Anna Rita no, anche Stacquino Mori no presentazione. E tutti i numeri che vuoi creare non è necessario presentare, anche i nomi, questo è tutto chiaro, noi abbiamo fatto questo un'altra volta, questo non è necessario perché è un po' distrutta l'atmosfera, va bene? Aspetti la musica, sì, aspetta la musica e dopo vieni, ok? Mentre invece gli oggetti sempre presentazione, sì? Oggetti, nome con piccolo movimento, ma diverso, sì, ok? Stati, sta qui, non muovere, sta qui, non muovere, sta qui, non muovere, ok, la musica qui, va bene? Stati, non muovere, va bene? Prima guarda, dopo fa. Sì, 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 sì. Che cosa è? Edo poi così. Molto chiaro. Perché qui non è visto, non è... E qui chiaro. Edo poi così. Melio in bocca. Scusi. Devo pulire. Ciao, il mio nome è Pallina. 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 Federica. Anna Rita. Aggetti, 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 aggetti ora. Pallina. 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 Ma guarda, no, questo aggetto a noi, non a te, ecco. Io credo finale, meglio finale con... Sì. Senza UFU, senza UFU. Ok, quindi questo dietro? Sì, sì. E finale? Sì, e finale, volare, volare. Ma volare fa così, con questo, volare, volare. Lavoro con... Io non ho visto, non ho visto, non ho visto. Guarda, io faccio così, hai visto qualcosa o non ho visto? Sì, hai visto? È così, è così. Che cosa hai visto? Che cosa hai visto? Volare, è così, più o meno, in prof. E qui quando... End up, non è così, ma pubblico qui. Guarda, guarda. Invece, dove testa? Lo stesso? Volare... Primo, volare. Secondo. Volare... Come si, posizione? Secondo, questo. Cioc, 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 cioc. Il terzo. Guarda, guarda. Tic, 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 tic. Ferma. Ferma. End up. Upp. Qui va qui. Ok. Ferma. Upp. Ok. Un'altra. Ciao, io sono il tia. Ok. Ok fuori! In questo è possibile fare un movimento completo Perchè non ho oggetto? Io sono otto Ok, finale Ok Pantamino Pantamino Non No Da qui? Vai ne qui? Oh Invece Non so che tempo Aspetta il centro mentale Quando lui fa tutta questa roba Tu continui questo Quando questa cosa è finita Si? Due o tre volte Quante volte tu fai? Quante volte? Due o tre? Tre volte Tre volte Dopo così Se non guarda lui Certo Pantamino Certo Pup 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 Lent Upp E la luce devo farlo stessi no no normale normale solo guarda e tu sai perché 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 così perché perso equilibrio si naturalmente non una finta ma come perso equilibrio si si non speciale si scusi 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 e finale tui abbastanza male che fa suono per lui? ok sempre così vieni qui solo così e cada più semplice guarda quando lui fa così fa suono insieme con lui ok prova ok facciamo così e qui e qui sì e qui e così un po' naturale si naturale prova 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 ancora 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 qui o qui? e qui e qui questo grigio nero e così bravo e qui caduto chiaro? non dimenticare facciamo prova e tu sei e rimani qui ora qui apre la porta no questo non necessario si e va via possibilmente e quando lui si e quando lui tutti insieme in chino tutti insieme in chino tutti insieme in chino si e a vostro posto perfetto ok chiaro? ora ricordo così per vincere ok opera dueto chi è primo secondo terzo voi deve fare decisione chi è primo che è secondo che è terzo chi è primo che è secondo che è terzo uno dopo l'altro come? ok basta grazie un'altra copia subito ok ok finale finale di questa cosa ok 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 grazie ma il finale come lo stabiliamo? finale io fermo io fermo ok ora ultimi ultimi no verso si non dimenticare queste piccole detalle per piacere per piacere piccolizzare facciamo così io voglio ok finale facciamo così un po' diverso chi è prima fa finale voi primi ok su Valeria con Davide finale ultimi 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 quando si canta le posizioni devono essere sempre queste si 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 uno fondale nero più o meno un po' più avanti si un po' più avanti anche un po' più avanti si il centro di questo si più o meno si spazio è così ok chiaro? ok corso per la vita subito una fila corso per la vita ok ricordo i vostri posti qui ancora sedi sul pavimento come primo e subito corso della vita una linea perfetta come sempre tutti questi movimenti perfetti ok ricordo il vostro posto parlo con il vostro centro mentale corso per la vita ok ok la spesa per la musica è stata il nostro corso per il nostro corso per il nostro corso il nostro corso è stato un progetto Grazie a tutti. 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 Tutto, tutto, tutto avanti, tutto avanti. E così, sentimento così. Quando tutto qui, tutto qui, sì, e così, e così, sì. E respiro, questo non necessario, questo non necessario, questo può che, perché qui è resistenza dell'acqua. Ok, se mi cerchio, perfetto. Poesia. Poesia. a tasca deve essere, nasi fuori, nasi fuori e qui uno dopo l'altro, uno dopo l'altro così. Tutti pronti per questa parte? Ok ora tre, facciamo? Mangiamo? Sì, un'ora, un'ora pausa, di pausa, mangiare, dopo da quattro a cinque, con la narita, tutte e due parti far male, sciac 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 sciac. E dopo così un'ora niente, non un'ora ma cambiamo a 20, sono cinque e quaranta, cinque e cinque e quaranta, cambiamo, bianchi e neri e così, e spediamo lì, pulire tutto così e qui fa andare, fa andare, fa sempre l'aiuto, ma esattamente un'ora, non è più. Perfetto, che voglio sentire la La musica per piacere viene da me. La musica, che musica, che musica, che curio...